L'accusa è gravissima, violenza sessuale continuata. Lui è il primario dell'ospedale pascale di Napoli, il chirurgo Raffaele Tortoriello, che ora è stato sospeso dall'attività per 12 mesi. La misura cautelare interdittiva emessa dal GIP del Tribunale di Napoli è stata eseguita dal personale della squadra mobile e secondo le risultanze investigative avrebbe abusato in più occasioni di due suoi pazienti nel corso di visite e controlli medici. Il primario di senologia è anche dirigente sindacale con incarichi regionali ed è responsabile del forum sanità del Partito Democratico di Napoli. Tortoriello potrà replicare le accuse nei successivi passaggi del procedimento giudiziario. Dopo l'interrogatorio di garanzia la difesa potrà chiedere a riesame l'annullamento della misura interdittiva. Le indagini sono state avviate in seguito alle denunce sport dalle due donne conoscenti che si erano insospettite per delle manovre durante le visite che avevano ritenuto inappropriate. Si erano rivolte al professionista per una mastoplastica additiva, verosimilmente in seguito a un'operazione di chirurgica ecologica. Durante le indagini svolte dal commissariato Arenella è emerso che erano state sottoposte a pratiche che non riguardavano gli accertamenti che il medico avrebbe dovuto svolgere. Il primo caso sarebbe avvenuto nel giugno 2018, la seconda denuncia invece riguarda diversi episodi avvenuti ad agosto e a novembre 2019. I abusi, stando a quanto riferito dalle pazienti, sarebbero avvenuti sia in ospedale sia nello studio privato del professionista nel quartiere napoletano del Vomero. Ma il primario si difende e dice tutto falso, sono innocente, respingendo le accuse ha detto di aver saputo del procedimento a suo carico soltanto questa mattina quando gli è stato notificato il provvedimento.